Salve a tutti ragazzi e bentornati su... Coindososserver 2 Stiamo facendo una caccia ai terroristi Difficile Esatto Ehm... E perché difficile? Perché l'altra volta abbiamo provato a giocare in realistico Ma abbiamo visto che ci hanno nerfati Non hanno nerfato il gioco Hanno nerfato noi No vabbè hanno assolutamente potenziato tutti i maledetti bastardi E niente Quindi io confermo il mio glaz Questa è nuovissima Ok È nuovissima una caccia ai terroristi Ce la possiamo fare Sì però aspetta voglio vedere se riesco a comprarmi un mirino No adesso non lo puoi comprare Adesso lo puoi solo mettere Già ce l'ho Ok già ce l'ho a posto a posto L'avevo già fatte queste cose ma il mio cervello non mi ha ricordato Mi dispiace non usare il G36C Ma questo fucile qui fa più danno quindi Ok Ce la possiamo fare Le ultime parole famose 26 nemici rimasti In 11 minuti e 5 minuti Ce la possiamo fare Dobbiamo solo credere in noi stessi Ma non hai la sensazione che il framerate sia migliore qui che su takedown red saber? Io ho cambiato il mirino Che cazzo di mirino è questo? Il drone è attivo Vabbè Ok È Natale Non l'abbiamo fatto a Natale questa cosa Oh sì Mi sa che sta mappa è sempre a Natale Ma non mi ricordo se lucette Ok senti io sono pronto Sono pronto A far che? A rompergli il culo a tutti quanti Vai spacca il muro Occhio che c'è un respiratore Vai vai ci penso io Ma è OP sto mirino Quanto è che me l'ho messo? Sono un genio E OP è termico Ah sì? Sì Occhio Ok uno è andato Sta arrivando Sta arrivando Lo sento Il respiratore non so dove Eh lo sento pure io Occhio Non è termico Individua soltanto i nemici Perché a te non Tu sei un animale a sangue freddo Lo sento Credo sia su Eh che cazzo Ma non muore Hai visto che Oh 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 Eh se mi sono dovuto ritirare Perché non capivo più niente Oh sto morendo L'ho visto Aspetta Ma hanno cambiato diverse cose Aspetta Dai resisti 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 Oh che ce n'era uno lì eh Eh lo so Però forse lo ammazzo Ecco è scappato su Ma hanno cambiato diverse cose Porca troia Ma si nascondono molto meglio Hai visto Pure il respiratore Che era Si era abbassato Si era steltato Beh ragazzi Queste sono cose Che a noi fanno molto piacere Perché aumentano la difficoltà In maniera carina Ok Ok Non si cadì Tre Oh cazzo 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 Scendi giù Madonna ragazzi Sono sceso cieco Ok Oh c'ho tre Ci hanno preso da fuori Da fuori alla porta Tre colpi Mi ricarico Ok Vai Sono ma Sono più figli di L'hai preso? Si si tranquillo Tranquillo Ti stavo coprendo Stavi a ricaricare Ok aspetta che metto una Claymore qui Così Ci abbiamo La ritirata Grande Grande Occhio al respiratore C'ho tre eh Eh lo so Non so se mi piace molto Questo Questo mirino Oppure no eh Ok Il respiratore è andato Non mi darebbe fastidio Avere delle munizioni extra Però perché In effetti ho sventagliato Chi è? Sta davanti a te? Ah non vedo niente Aspetta Riparati Guarda quel figlio della merda Che si nasconde Dov'è? In fondo al corridoio Ha lanciato una granata E poi si è nascosto Occhio Occhio Spostati Bella Occhio C'ho un colpo Devo ricaricare Sto ricaricando? Sì 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 Non ti preoccupare Sta salendo qualcuno le scale Oddio che culo Preso? Sì C'è il respiratore Da qualche parte Ok, è andato Lo rifornimenti da questa parte Ottimo, grazie a Dio È libero? Sembra di sì, però devo salire ancora Ok, ti riparo Grazie, madonna ragazzi l'ansia, l'ansia fortissima Sette nemici rimasti, abbiamo 6 minuti e 56 Non dobbiamo avere fretta Perché se può fa, se può fa Ok Stiamo andando veramente piano, io sto con 3 Eh, ma il problema è quello che Saliamo su, dai Occhio Sì, sì, tranquillo La cosa buona è che se stanno accucciati a me diventano gialli, quindi li vedo Aspetta che butto un altro Un altro cazza fa Ah, ecco Subito dietro la porta Vaffanculo Ok Aspetta La porta è in fondo Ricarico Ragazzi, tensione Occhio, occhio, occhio Ok, la suora è andata Ok, un altro Oh, cazzo Cazzo Eh, mi sei passato davanti e non l'ho fatto apposto Però Ce l'avevo sottotiro Buono, buono, buono Hai visto come vedo io? Sì, non lo so se mi piace però Però guarda Sì, no, è utile Perché è verità Vabbè, l'abbiamo fatto In difficile Siamo stati molto bravi E l'abbiamo finita Ce l'abbiamo facciuta Abbiamo fatto una bella partita Veramente Buono Buono Alla prossima, ragazzi Ciao 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 Ciao